Conclusa la Joint Stars, la grande esercitazione della difesa. Esperienze di leadership a confronto. Elettra 2018 testata la capacità operativa degli assetti Communication e Information System. Bentrovati con le notizie di Video News. Appoggio Renatico a scenari di crisi complessi per un addestramento interforze svolto in maniera virtuale su piattaforme informatiche. Il servizio della nostra inviata. Articolata su due fasi, la Joint Stars 2018 ha chiuso i battenti lo scorso 22 giugno a Poggio Renatico in provincia di Ferrara. Nella sede del Comando Operazioni Aeree dell'Aeronautica Militare, ente che ha ospitato l'evento addestrativo più importante della difesa. Una esercitazione che ha visto coinvolti circa 500 militari di tutte le forze armate e che è stata sviluppata con l'impiego di piattaforme informatiche di modeling e simulation. Piattaforme che hanno consentito di addestrare i partecipanti ad operare in risposta ad una crisi, come ci ha spiegato il generale Ercolani, comandante del JFAC alla Joint Stars. Lo scopo è quello di esercitare le capacità di comando e controllo del JFAC nazionale nella pianificazione, condotta ed assessment di una campagna aerea in presenza di minaccia simmetrica. L'interoperabilità delle forze armate è l'elemento indispensabile per rendere lo strumento militare più coeso ed efficace e perfettamente integrabile nelle alleanze euro-atlantiche. Sono state le parole del generale Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore della Difesa, rispondendo ai giornalisti nella giornata di chiusura dell'attività addestrativa. Ogni anno la Joint Stars si rinnova, ma questa edizione ha visto alcune importanti novità addestrative molto significative anche in considerazione degli scenari internazionali. E proprio di questo ha parlato il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, che è intervenuta proprio nella giornata conclusiva. Io credo che una parte molto importante sia aver sperimentato le capacità di difesa cibernetica. È sempre più importante per il futuro ed è importante che si diffonda una cultura, soprattutto tra le persone civili e militari, sull'importanza di difendersi da questo tipo di attacchi. A Firenze l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche ospita studiosi ed esperti per una conferenza sulla leadership. Vediamo il servizio. 500 partecipanti, un unico obiettivo, condividere contenuti, ricerche e buone pratiche per formare il personale ad una leadership sempre più diffusa e partecipata. Quattro panel nei quali i relatori del convegno organizzato a Firenze dall'Aeronautica Militare il 20 giugno scorso si sono confrontati su leadership in neuroscienze, leadership e formazione, leadership per l'innovazione e leadership ambiente Vicar, acronimo con il quale vengono evidenziati gli elementi che caratterizzano l'attuale scenario sociale, economico, culturale e tecnologico. Alcuni spunti nuovi ma anche molti aspetti in comune nelle parole dei relatori. Non esistono formule vincenti per una leadership ottimale ma per tutti la parola d'ordine è valorizzare le persone e favorire creatività e pensiero. Le persone per noi sono assolutamente il cuore della nostra attività perché noi lavoriamo cercando di capire che cose i nostri clienti vorranno fra 15, 20, 30 anni e quindi abbiamo bisogno di sperare di avere le competenze e le capacità che ci consentono di guardare avanti e di progettare il futuro in modo che i prodotti e i servizi che sapremo realizzare siano adeguate alle nuove esigenze operative dei nostri clienti che poi sono entità come l'Aeronautica Militare. E' estremamente importante il tema delle persone perché credo che le relazioni umane siano comunque alla base di qualsiasi attività di un'organizzazione. Leadership individuale e di gruppo organizzativa e strategica. Quattro diverse dimensioni per il modello di leadership adottato dall'Aeronautica Militare. Modello che sembra essere di interesse anche tra le organizzazioni complesse come ci ha confermato il dottor Guido Grimaldi della omonima Compagnia di Navigazione. Ritengo che il modello dell'Aeronautica che comunque si basa su quattro principi, quattro fondamenti, sia poi quello che tutto sommato si ripercuote ogni giorno sia a livello aziendale che a livello associativo. A livello aziendale io ritengo che le eccellenze degli individuali fanno sicuramente la differenza. Il lavoro aggregativo e manageriale fatto nel day by day è assolutamente una necessità, conseguenza, che sicuramente dipende dalla eccellenza e anche dalla qualità dei singoli. La leadership si può insegnare ed è quello che fa l'Aeronautica Militare nei suoi istituti di formazione, come ci ha spiegato il generale di squadra aerea Fernando Giancotti. Certamente la leadership si può insegnare, io ho imparato tanto e conto ancora di imparare tanto. L'Aeronautica Militare ha trovato una metodologia molto efficace, che noi chiamiamo formazione integrata, che si sviluppa attraverso un modello dall'ingresso in forza armata alla pensione praticamente, e che modula l'investimento formativo sulle dimensioni principali della leadership con continuità. Quindi è una formazione continua ed è una formazione dove la dimensione concettuale è strettamente intrecciata a quella esperienziale sotto la diretta responsabilità e partecipazione del discente. Questa è la dinamica formativa fondamentale che poi viene declinata in moltissime iniziative, in moltissimi progetti formativi, costruiti anche dentro l'attività di tutti i giorni, quindi l'attività lavorativa. Una leadership aeronautica in cui il personale sia parte attiva, leadership come preparazione, capacità. La competenza è un elemento fondamentale, come affermato dal capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli, in occasione del suo intervento. Bisogna avere cura del personale. Il personale è quello che muove la macchina, non la macchina in sé. Chi dà gli ordini è il personale. Bisogna curare il personale. A tutti i livelli. Terminata l'Elettra 2018, un'esercitazione alla sua terza edizione che prende il nome da un personaggio della mitologia greca, organizzata e condotta dalla 4a Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'Assistenza al Volo. L'evento addestrativo che ha visto coinvolti il settantesimo stormo, il quarto stormo ed altri enti della Forza Armata è terminato il 15 giugno ed ha impegnato il personale per 12 giorni. Scopo dell'attività è stato quello di incrementare la capacità operativa di rischieramento dei sistemi di telecomunicazione, dei radar, delle radioassistenze al volo e della navigazione aerea, sia in ambito nazionale che internazionale, come ci ha raccontato il responsabile dell'Unità Communication e Information System. Scopo dell'esercitazione Elettra 2018 è ottimizzare tempestività, efficienza ed efficacia di intervento nell'operazione in cui la 4a Brigata può essere chiamata ad intervenire. Inoltre, testare le procedure di impiego degli assetti e nel contempo arricchire il bagaglio tecnico professionale del personale rischierato. L'esercitazione prevedeva, oltre alla capacità di rischieramento dei sistemi, anche l'attività di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione dei sistemi rischierabili che replicano esattamente quelli normalmente utilizzati dagli operatori. Il rischieramento è costituito da un COD, una sala di pianificazione e una torre mobile. Questa è la torre mobile, con le stesse capacità operative di una torre di controllo. Gli operatori svolgono l'attività di controllo del traffico aereo reale e di quello dei veriboli impiegati nell'esercitazione. Per oggi è tutto, Video News termina qui. Se volete guardare tutti i nostri servizi lo potete fare iscrivendovi al nostro canale YouTube.